Allora, qui ho un albero che ho creato dal tutorial 3, albero con cuscinetti, adesso ci rimane che mettere le forze agenti, ipotizziamo che qui ci sia un momento torcente di 500 Nm e che esca con una cinghia trapezoidale la stessa coppia di 500 Nm, però abbiamo qui anche una forza di flessione di 14.000 Nm dovuta al tiraggio della cinghia. A questo punto, per simulare questo, possiamo, in modo molto semplice, possiamo aggiungere una forza centrata di distanza, ipotizziamo che sia proprio in mezzo alla mia prima linguetta, 35 Nm, qua si vede la forza agente, possiamo allargare, come si dice, ingrandire l'immagine della nostra forza, e è in input, dobbiamo mettere qua input, dunque l'albero viene considerato come condotto in questo caso qua, e mettiamo 500 Nm, ok. A questo punto dobbiamo aggiungere la seconda, la forza in uscita, aggiungi sempre, schematizziamo sempre, in modo molto semplice, come forza centrata, questa volta a metà, questa volta a metà, la schematizziamo qui a metà della linguetta, dunque 235, 235, e mettiamo sempre 500 Nm in uscita, in output, ok, dunque in questo caso il nostro albero risulta come conduttrice, e però dobbiamo aggiungere nel direzione, in direzione z, i miei 14.000 Nm, per vedere se ho fatto giusto, posso andare a simulare, esegui calcolo, ok, qui, li guarderò dopo questi valori qua, e andiamo a vedere, come si comportano i momenti flettenti, dunque vado qua, andamento della forza, avrò dunque, dovuto alle reazioni vincolari, una forza di taglio schematizzata così, e posso andare a vedere anche l'andamento dei momenti flettenti, questo, e dei momenti torcenti, e dunque è perfettamente quello che volevo, col video dopo andiamo a vedere se l'albero resiste.